Dico solo una cosa mi ero immampestata, l'ho vista da lavoro e so salito su di sopra solo per dire questo, solo per dire questo Gudmundsson è ad oggi, è ad oggi uno dei giocatori più incisivi d'Europa è ad oggi uno dei giocatori più incisivi d'Europa, un giocatore che sposta gli equilibri, che fa la differenza preso dal Genoa a quattro spicci per quello che vale, può essere il nuovo Kvarastkelia anzi è già il nuovo Kvarastkelia, questo segnatevelo perché chi l'ha preso al fantacalcio come il sottoscritto ad oggi è primo in classifica e si gode il momento e non è un caso perché tanti mi dicono ma te arrivi sempre lì perché c'è culo, sì ma ci vuole anche studio, testa e Gudmundsson è un giocatore con la G in maiuscola ragazzi, il Genoa batte la Salernitana e vola, 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 vola e io penso nemmeno il più roseo, il più entusiasta, il più positivo dei tifosi genuani ad oggi poteva pensare ad un avvio di stagione così, ad un avvio di stagione fatto ragazzi veramente benissimo un proseguimento allo scorso campionato che sta andando veramente a gonfie vele da quando l'anno scorso Girardino ha preso questa squadra, questa squadra sta facendo un bellissimo calcio oggi nel primo tempo ho visto davvero un Genoa colossale contro una Salernitana un po' annichilita un po' frastornata anche dallo stadio, dall'atmosfera di una squadra che è consapevole dei propri mezzi che è consapevole del proprio percorso contro una che invece è nuova nuove idee, nuovi stimoli e questo si è visto, si è visto a tratti soprattutto nel secondo tempo dove la Salernitana poteva anche portare a casa un punto e forse per atteggiamento, per quello che si è visto nella ripresa non sarebbe stato nemmeno demeritato raccogliere qualcosa da questa partita assolutamente no però contro c'è stato un Genoa che nel primo tempo è stato un rulo schiaccia sassi palo di reteghi, bellissimo gol di Wood Munson, poteva anche chiudere la partita nel secondo tempo anche l'occasione di Dragosin all'inizio, cioè nel primo tempo è stato un Genoa dominante ha raccolto poco dal punto di vista del tabellino per quello che ha prodotto poi nel secondo tempo è venuta fuori la reazione della Salernitana bravo Inzaghi a mesclare un po' le carte qualche giocatore che sta ritrovando la fiducia sta ritrovando fiducia nei propri mezzi qualcuno sta deludendo, sta molto deludendo per quanto riguarda la Salernitana va detto, alla fine ecco una reazione anche quel palo di Mazzocchi occasione insomma di Diapo era fuori gioco però la Salernitana poteva portare a casa il pareggio anche se secondo me per la dinamica della partita non sarebbe stato meritato perché il Genoa ha fatto molto molto meglio ma io qui oggi, so qui oggi, so qui oggi, so qui oggi per dire Alfred Gudmundsson è il nuovo Kvicac, Varast Kelia perché di giocatori che fanno quello che fa Gudmundsson ce ne sono pochi di giocatori che spostano l'equilibrio come le sposta oggi Alfred Gudmundsson ce ne sono pochi di giocatori che partono palla al piede, fanno bene la doppia fase dialogo con la squadra, vengono incontro, fanno girare impostano, imbucano, si allargano, vanno dentro tiro da fuori aria, dribbling va in profondità a giocatori come Gudmundsson completi nel calcio di oggi, nel calcio moderno ce ne sono pochi Gudmundsson è un giocatore che sposta gli equilibri, sta spostando gli equilibri è uno dei migliori giocatori della Serie A è uno dei migliori giocatori in Europa in Europa, in questo inizio dei campionati è guai a chi dice il contrario guai a chi dice il contrario e contraddice, purché ha lo youtuber e il social mare in mano perché questa è la mia idea mare in manpestata, like e iscrivetevi al canale perché se no vi segui a mare, Alfred Gudmundsson al fantacalcio, vi farà tremare namo Alfred, che siamo privi Alfred Gudmundsson, Alfred Gudmundsson Alfred Gudmundsson e...